Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video vi voglio spiegare come si dipingono i fiori d'acquarello. Vi faccio appunto una dimostrazione di come ho dipinto queste rose gialle ad acquarello, tenendo presente che queste rose le ho fatte seguendo le indicazioni del libro di Wendy Tite, fiori ad acquarello, quindi seguendo appunto le indicazioni spiegate in questo libro. Però diciamo che l'autrice spiega sì passo passo fino a un certo punto quali sono i colori da utilizzare e come stenderli, ma è anche vero che bisogna conoscere la tecnica dell'acquarello, come si stendono i colori, come si fa il bagnato su bagnato, altrimenti indubbiamente non si riesce ad eseguire l'esercizio. Questi libri presuppongono il fatto che bisogna essere un po' pratici con la tecnica dell'acquarello. Essere totalmente inesperti non aiuta sicuramente, cioè i principianti che non hanno ancora capito come fare alla tecnica bagnato su bagnato o bagnato su asciutto avranno qualche difficoltà, quindi insomma le basi si devono conoscere dell'acquarello, della tecnica dell'acquarello per poterli utilizzare questi libri. Comunque brevemente vi spiegherò che ho utilizzato per fare queste rose ovviamente almeno tre sfumature diverse di giallo. Partiamo da un giallo limone di cadmio, oro di quinacridone che io in realtà ho utilizzato, ho sostituito con il giallo ocra e per le sfumature rosse, lacca rosa, poi un po' di bruno di granza. Qua e là ci vogliono anche delle gocce di arancione di cadmio. Poi per fare le foglie ovviamente si utilizza l'indaco, il blu di cobalto, il violetto di cobalto, quindi ci sono una serie di colori che devono essere utilizzati, cioè dipingere rose o comunque in generale i fiori presuppone il fatto che bisogna utilizzare, per esempio in questo caso nelle rose gialle, almeno tre gialli differenti o comunque anche se se ne usano due come il giallo di cadmio e l'ocra gialla o l'oro di quinacridone come lo chiamano alcuni. In base poi alle ditte che fanno i colori cambia insomma, in base alla marca dei colori che utilizzate magari cambia anche il nome come vengono chiamati. Questi colori però devono essere, bisogna saperli miscelare fra di loro e poi come si stendono bisogna anche un po' toglierli. E sì, non è facile, effettivamente non è facile, quindi io, cioè spiegarlo in un video veramente è troppo riduttivo. Bisognerebbe fare proprio un video apposito dove spiego i petali a uno a uno come si dipingono. Brevemente qui posso dirvi soltanto che ho passato la tecnica bagnato su bagnato per ciascun petalo perché i fiori vanno lavorati petalo per petalo, quindi prima si passa il pennello bagnato per ciascun petalo che si intende lavorare. Poi ho passato una sfumatura di giallo più scuro mescolando il giallo-limone di cadmio insieme con l'ocra gialla in una tonalità un po' più scura per fare le parti più scure e invece un'altra tonalità un po' più chiara, quindi utilizzando una percentuale maggiore di giallo-limone di cadmio per fare le parti più chiare. Come si stende? si stende appunto bagnato su bagnato e sarebbe opportuno iniziare prima dalle parti più chiare poi fare gocciolare il colore un po' più scuro nelle parti dove occorrono le ombre, cioè rafforzare dove occorre rafforzare le ombre, quindi toni più scuri. E questo lavoro va ripetuto petalo per petalo e fiore per fiore. Ovviamente capite bene che si tratta di un lavoro che richiede ore, quindi questa registrazione è fatta appunto in timelapse, cioè in velocità, in super velocità perché ovviamente io ho impiegato due giorni perché me la sono presa con calma per fare questo tipo di dipinto. Poi oltretutto con gli acquerelli bisogna anche aspettare i tempi di asciugatura, cioè sarebbe opportuno aspettare che i colori asciughino prima di passargli le velature di sopra o altre o ancora altre pennellate di colore. E di conseguenza diciamo che la pittura d'acquerelli è una pittura molto bella ma è una tecnica che richiede un po' di preparazione, cioè bisogna conoscere le basi, bisogna saper stendere il colore bagnato su bagnato. Se si vogliono fare delle velature e aspettare che una prima mano di colore asciughi per passarne poi successivamente una seconda, ribagnando di nuovo la carta e ripassando il colore. Ma attenzione, ovviamente la carta deve essere di buona qualità, ragazzi non scendete mai al di sotto dei 300 grammi perché è inutile, si perde tempo, la carta imbarca, cioè se dovete fare dei lavori dove occorre bagnare molto la carta, la carta si imbarca e poi vi nervosite, soprattutto i principianti avranno sicuramente una forma di scoraggiamento perché non riusciranno più ad andare avanti. Quindi ragazzi occorre necessariamente utilizzare una carta di buona qualità, soprattutto ai principianti e io consiglio di evitare il fai da te, soprattutto per le carte, quindi andate a comprare direttamente gli album da 300 grammi e ragazzi io capisco che i principianti vogliono risparmiare, ci mancherebbe altro e anche giusto. Però ragazzi dico subito che se lavorate su una buona carta di acquarello, quindi che costa un po' di più, otterrete risultati migliori perché il supporto sul quale si lavora è fondamentale. Se la carta è buona, poi se la carta è 100% cotone, quindi stiamo parlando di carte di una certa importanza, come queste che io ho utilizzato per lavorare le rose, c'è una carta della harsh, sicuramente la carta di 100% cotone performa bene, trattiene molto bene l'acqua e non vi fa brutti scherzi, non tradisce la tecnica e quindi insomma ovviamente io personalmente preferisco lavorare sulla carta migliore. Ovviamente capisco che i principianti preferiscono spendere qualcosa di meno. Allora comunque ragazzi non vi voglio dire quale carta comprare, ma non scendete mai, non fate mai dei lavori con carta inferiore 300 grammi perché anche se è vero che si utilizzano molti acquarellisti, magari quelli un po' più bravi, ecco fanno i loro sketch su carta di grammatura inferiore, è anche vero che sono sketch, cioè dipende cosa vogliamo fare. Se noi vogliamo fare delle prove di lavori, allora va bene una carta da magari inferiore, dico come grammatura, anche se in barca, chi ce ne frega, tanto è un lavoro su uno sketchbook, ma se vogliamo fare un dipinto, possibilmente un quadro, qualcosa di bello che poi vogliamo appendere a casa, non scendete mai al di sotto dei 300 grammi perché la carta al di sotto dei 300 grammi fa sempre brutti scherzi, imbarca, si piega e poi vi mangerete le mani, soprattutto se il lavoro vi riesce bene. Vi mangerete le mani proprio, dico ma chi me l'ha fatto fare, ma perché l'ho fatto su una carta così? Quindi questo è un primo consiglio che mi sento di dare a tutti, utilizzate carta buona. E per quanto riguarda i colori, la stessa cosa, allora non scendete mai al di sotto delle linee studio, quindi vanno bene i My Mary della linea studio, io per esempio ho imparato utilizzando gli acquerelli della My Mary, linea Venezia, extra fini, che è una linea studio, però un'ottima linea studio, perché rendono molto bene questi colori. La stessa cosa magari di Winsor & Newton, però ragazzi non comprate roba più economica perché non rendono bene. Il problema dei colori è che se il pigmento non è buono, non è di buona qualità, se gli acquerelli non sono stati legati bene, insomma non c'è il giusto contenuto di gomma rabbica, non sono stati, tra virgolette, costruiti bene in qualche modo, danno veramente a diversimi risultati. Gli acquerelli molto economici, quelli un po' che si trovano nei supermercati, lo dimostrano, perché lasciano, ecco, voi capirete se un acquerello è buono oppure no, quindi stiamo parlando del colore se vi lascia il segno delle pennellate. Ragazzi, se un acquerello vi lascia, quando passate l'acquerello vi lascia il segno delle pennellate sulla carta, vuol dire che quei colori non sono di buona qualità, perché voi fate lo stesso esercizio con gli acquerelli già anche della My Mary, o della Winsor & Newton, o comunque c'è un'altra marca molto carina che io sto provando, la Zena Color, che è una marca economica, però dà dei buoni risultati per la stesura di colore, bagnato su bagnato, ecco, non, cioè, se vedete che fate una prima stesura di colore, una prima mano di colore, bagnato su bagnato, e l'acquerello vi lascia tutti i segni del pennello, ragazzi, lasciate perdere quei colori, posateli, perché sono i colori che non vanno bene, non siete voi che non sapete dipingere, io questo ve lo dico perché non voglio aiutare tutti i principianti a non scoraggiarsi, cioè, non vi scoraggiate se vedete la pennellata, non dovete pensare, ah, sono io che non so dipingere, devo imparare la tecnica, non è così, sì, sicuramente la tecnica va imparata, ma magari voi siete potenzialmente bravi, ma state usando gli strumenti sbagliati, cioè, se rifate lo stesso esercizio, con dei colori migliori, guardate che il segno della pennellata sulla carta non vi resta, ve lo dico per esperienze, perché io ho utilizzato gli acquerelli più scarsi, non voglio, non vorrei neanche nominarli, però ad esempio, facciamo un esempio gli acquerelli dei supermercati, quelli che vendono nei grandi magazzini, gli acquerelli che sono, insomma, non sono acquerelli di belle arti, parliamoci chiaro, quindi sono acquerelli che sono dei supermercati, della Lidl, o di queste robe così, dei bambini, gli acquerelli per i bambini, se voi provate a fare una mano di bagnato su bagnato, stendere una mano di colore, uniforme, con acquerelli che sono economici, già che costano meno di 6 euro, meno di 10 euro, ragazzi, cioè, vedete i risultati, vedete che vi lasciano tutte le pennellate, quindi non vi scoraggiate, non siete voi, comunque che non siete bravi e non è neanche la tecnica che è difficile, sono gli acquerelli che sono scarsi, ok, va bene ragazzi, quindi non vi scoraggiate, e un'altra cosa importante è la carta, e per quanto riguarda i pennelli, invece, io non utilizzo, cioè, io ho diversi pennelli, ok, ma non è necessario per forza comprare acquerelli di marca, chissà quale, perché gli acquerelli, basta che siano pennelli tondi e abbiano una buona punta, comprate sempre anche acquerelli di linea studio, diciamo, quelli che magari nei negozi delle arti consigliano per gli studenti, quelli vanno bene, li posso, mi sento di consigliarli ai principianti, per il resto, tornando a questo dipinto, quindi vi ho spiegato come ho fatto i fiori, quindi si fa petalo per petalo, bagnato su bagnato, stendendo una prima mano di, magari, è meglio iniziare con i colori un po' più chiari, e poi punteggiare laddove servono le ombre con i colori un po', con i toni di giallo un po' più scuri. Successivamente ho fatto anche le foglie, e lì non ho registrato, perché ragazzi, sennò veramente dovevo fare un video di due ore, tre ore non lo so, cioè già questo è fatto in super velocità, ma come vedete sono già 24 minuti di video, cioè non riesco a ridurlo meno di così. Per cui, per quanto riguarda i petali e lo sfondo, non ho fatto riprese, ma, non i petali, scusatemi, le foglie, i gambi e lo sfondo, non ho fatto riprese, ma vi dico brevemente cosa ho fatto. Praticamente ho utilizzato per fare le foglie, ovviamente si fa una composizione di, allora intanto ho steso una prima mano di blu, blu cobalto, ma molto diluita, sulla quale poi ho steso, magari facendo gocciolare, un po' di giallo, limone, di cadmio, cioè lo stesso tipo di giallo che ho usato per i petali, con l'aggiunta di una punta di indaco. Vedete che otterrete un verde scuro che è quello necessario per le foglie, perché le foglie delle rosa sono verde scuro, ragazzi. Per quanto riguarda poi i boccioli, avete visto, ho aggiunto quella, un po' di sfumature di lacca rosa, perché è importante quando si fanno le ombreggiature delle parti verdi utilizzare i rossi, cioè le ombre delle zone verdi si fanno con un, diciamo, una sfumatura di rosso. In questo caso io ho utilizzato una lacca rosa, sì, una lacca rosa. Per quanto riguarda lo sfondo, lo sfondo va lavorato, più e più volte comunque si passa una mano di acqua pulita tutta attorno ai gialli, cioè ai gialli voglio dire ai fiori gialli, e poi si deve creare uno sfondo che sia, diciamo, del colore che sia contrapposto alla ruota dei colori. C'è il complementare. Allora, in questo caso, attorno al fiore più giallo ho messo, ho steso, gocciolato, bagnato su bagnato, una sorta di blu indaco con una goccia di violetta, ma una goccia proprio una punta, e attorno al fiore invece, alla rosa, alla rosa più rossa, che vedete in questo momento che sto dipingendo, invece ho fatto sempre un bagnato su bagnato e poi ho gocciolato il blu indaco senza violetto, perché l'indaco è il complementare dell'arancione, quindi ci stava bene. Ovviamente questo tipo di lavoro sullo sfondo l'ho fatto più e più volte, cioè ho aspettato che asciugasse una prima mano e l'ho rifatto di nuovo. L'ho fatto anche due, tre volte, eccetera. Perché purtroppo, ragazzi, sapete bene, gli acquarelli sono stupendi, ma la caratteristica dell'acquarello è proprio che sono brillanti e luminosi. E che cosa fanno? Fanno anche un brutto scherzetto, cioè che quando si asciugano, l'acquarello asciutto risulta meno due toni inferiore a quello che appariva quando i colori erano stesi. Per cui vedete bene che alla fine il risultato sarà completamente diverso rispetto a quello che avevate voi inizialmente dipinto, pensavate che fosse, diciamo, finito. In realtà, quando poi si asciuga tutto il dipinto, risulta molto, molto pallido. Infatti io queste rose le ho dovute rifare almeno tre volte. Ho dovuto ripassare nuovamente tutti i toni. Perché poi i gialli, non so perché questo giallo mi veniva particolarmente pallido, e quindi l'ho dovuto rifare. La stessa cosa vale per le foglie, che qui state vedendo come faccio. E la stessa cosa vale anche per lo sfondo. Quindi, ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Quando si dipinge d'acquarello, comunque la pittura è un lavoro che bisogna fare con molta pazienza e anche molto tempo a disposizione. Cioè non è una cosa che ce ne usciamo in un giorno. Ecco, se vogliamo dipingere, già con la pittura a olio questo accade. Cioè quando si dipinge a olio, ad esempio, si sta veramente, certe volte anche mesi, a fare un quadro. Per quanto riguarda la pittura d'acquarello ci vogliono... sarebbe opportuno perdere un po' di giorni per fare un dipinto, perché dobbiamo aspettare tra una mano e l'altra che il dipinto asciuga. Quando asciuga, poi il risultato sarà diverso, perché appunto, ho detto, i colori in qualche modo sbiediscono. E quindi dobbiamo poi ripassarli di nuovo, una volta, due volte, tre volte, fino a quando non siamo soddisfatti. Quindi la pittura a olio... scusatemi, la pittura d'acquarello è una pittura molto bella, affascinante, ma richiede tanta pazienza, tanto esercizio, ma comunque non è difficile come... cioè non è facilissima, ma non è neanche tanto difficile come sembra. Si può fare, anzi io lo consiglio a tutti, però ovviamente una cosa che mi sento di dire, ragazzi, utilizzate sempre comunque prodotti buoni, colori buoni, perché performano meglio, vi daranno una resa migliore. Non vi scoraggiate, non vi scoraggiate perché spesso magari quella traccia di pennellata non ci sarebbe se semplicemente utilizzaste dei colori migliori o comunque... provate con altri tipi di colori. Ecco, non vi fermate al primo intoppo, alla prima prova dove dico, ah la pennellata, non ce la posso fare, no? Non vi scoraggiate, cambiate strumenti, cambiate... utilizzate altri tipi di colori, comprate altre marche di colori se avete soldi da spendere. Io ne ho comprati veramente di tutti i tipi, perché ovviamente li voglio provare tutti e perché io sono una testarda, che non mi faccio scoraggiare dalla pennellata che si vede, insomma, cioè non mi faccio scoraggiare da quello che potrebbe sembrare difficile, no. Ecco, un consiglio che vi do a tutti, non vi scoraggiate mai. Io ad esempio ho iniziato a dipingere con la carta della Fabriano, ma non mi sono trovata particolarmente bene, non riuscivo ad adattarmi con quella carta. Quindi poi ho cambiato carta, ho provato la carta della Canson, e i devutini mi trovano meglio. Poi la Cartage, non ne parliamo, la Cartage è favolosa, performa benissimo, trattiene l'acqua, è una cosa meravigliosa. È vero che è la più cara che c'è in commercio, è una delle più care, però ragazzi il rendimento è superiore, 100%, non c'è veramente. Quindi l'ultima cosa che mi sento di dirvi è, come si dice, ovviamente il prezzo, quello che spendi è il prezzo, ma quello che ottieni è la qualità. Quindi se si spende di più, sicuramente lavoriamo con prodotti di migliore qualità e otteniamo anche delle performance di alto livello. Quindi molto dipende, lo dico a tutti gli aspiranti acquerellisti e tutti gli amici aspiranti acquerellisti, molto dipende veramente anche dagli strumenti che utilizziamo. Chiaramente poi ci vuole anche la mano dell'artista, fa la differenza, non c'è dubbio, ma gli strumenti, se sono buoni, aiutano sicuramente un'acquerellista a performare molto bene. Va bene, ragazzi, con questo io vi saluto perché penso di aver parlato anche troppo, vi ho detto tutti i consigli che mi sentivo di darvi in questo video e adesso vi lascio una bella musichetta, vi saluto, un bacio a tutti, ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!